dobbiamo fare un forte applauso a claudia che è una new entry degli utodays italia quindi ce ne saranno altre new entry per cui ogni volta un applauso calorosissimo si è cambiato un po' però va bene e quindi il titolo del tuo talk è l'iva oltre la competenza di chi comunque lì c'hai le tue slide sono tutti per te stendili benissimo allora mi ha già presentato andrea faccio io sono claudia fumarola analista funzionale presso apulia software di cosa parleremo di cosa parleremo oggi si sono un po' smosse le slide ma non importa il bello della diretta allora parleremo di quella che è la gestione della competenza IVA in Odoo quali sono i limiti e quali sono le risoluzioni che noi all'interno di apulia software abbiamo trovato perché parliamo di limiti parliamo di limiti perché tutte le versioni di Odoo community o enterprise benché abbiano all'interno di esso installato tutti i moduli della localizzazione italiana purtroppo al momento non riescono a gestire e ad avere una corretta gestione di quello che è il periodo IVA abbiamo quindi pensato di trovare delle soluzioni da mettere a disposizione della comunità italiana per poter ottenere quella che è una corretta gestione della competenza IVA rispettando appunto la normativa facciamo un brevissimo excursus storico ci chiediamo innanzitutto da quando è che si è resa necessaria la corretta gestione della competenza IVA in Italia dobbiamo fare qualche passettino indietro e dobbiamo arrivare fino al 2018 più o meno quando è stato emanato un decreto legge vista la straordinaria necessità ed urgenza di prevedere misure per esigenze fiscali e finanziarie indifferibili facciamo un piccolo focus su quello che è l'articolo 12 di questo decreto legge che addirittura è andato in un certo senso a sostituire in un certo qual modo quello che è l'articolo 23 addirittura della 633 del 1972 nello specifico questo articolo 12 leggiamo quello che recita effettivamente questo articolo 12 perché è quello da cui parte l'oggetto di questo talk e che ci servirà molto l'articolo 12 appunto recita il contribuente deve annotare in apposito registro le fatture emesse nell'ordine della loro numerazione entro il giorno 15 del mese successivo rispetto a quello di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni cosa vuol dire tutto ciò? vuol dire che se noi abbiamo una fattura emessa per esempio il giorno 6 aprile e la stessa viene ricevuta dallo SDI il giorno 6 maggio per quello che è appunto l'articolo 12 che abbiamo appena visto questa fattura deve rientrare all'interno della competenza IVA e quindi della liquidazione IVA del mese di aprile se prendiamo questa stessa fattura con le stesse caratteristiche quindi abbiamo ancora la nostra fattura emessa il 6 di aprile ma ricevuta dallo SDI anche solo il 16 di maggio sempre del 2024 per esempio cosa cambia? cambia tutto perché per quello che abbiamo visto abbiamo superato il 15 del mese successivo rispetto alla data di effettuazione delle operazioni ecco quindi che questa fattura con queste determinate caratteristiche e con questa piccola modifica di differenza diciamo così di ricezione poiché appunto è stata ricevuta dallo SDI il 16 di maggio rientra in quella che è la liquidazione IVA appunto è del mese di maggio e quindi non più di aprile la liquidazione IVA lo sappiamo tutti non è nient'altro che un'operazione obbligatoria per determinare crediti e debiti all'interno di un range temporale questo range temporale può essere mensile o trimestrale chiaramente a seconda di quello che è il settore di business dell'azienda insomma di cui ci stiamo occupando andiamo però su quello che è il nostro mondo di Odu e quindi ci chiediamo innanzitutto com'è che viene gestita la liquidazione IVA in Odu e soprattutto com'è che viene gestita la competenza IVA ma ancora prima la competenza IVA viene gestita in Odu vediamo un attimo sicuramente dobbiamo dobbiamo prendere in considerazione quello che è il nostro fantastico mondo della contabilità e nello specifico il modulo contabilità vediamo un attimo prendiamo come esempio una fattura fornitore questa è la nostra classica fattura fornitore che siamo abituati a vedere quotidianamente abbiamo quella che è la data di fattura quindi la data in cui la nostra fattura è stata generata quindi la nostra data di emissione della fattura abbiamo la data contabile che sappiamo può o meno coincidere con quella che è la data di emissione e abbiamo poi la data di scadenza della nostra fattura cosa succede? in Odu sappiamo che il valore che viene preso in considerazione per quello che è la liquidazione IVA è proprio il valore della data contabile che ricordiamo essere potere essere anche coincidente con quella che è la data di fattura vediamo un attimo all'interno di Odu come è possibile generare una corretta liquidazione IVA sicuramente dobbiamo occuparci e dobbiamo focalizzare la nostra attenzione su determinate configurazioni che bisogna fare lo sappiamo tutti dobbiamo andare a considerare a configurare quelli che sono gli intervalli di data quelle che sono le tipologie di intervallo di data quindi per esempio andando a considerare sempre la nostra classica fattura che abbiamo preso come esempio del 6 aprile andiamo a configurare qualora la tipologia del nostro intervallo di data fosse mensile andremmo a generare quello che è un intervallo di data mensile con una data inizio e una data fine quindi dal 1 aprile al 30 aprile piuttosto che una tipologia trimestrale quindi dal 1 aprile al 30 giugno cos'altro dobbiamo fare dobbiamo sicuramente andare a configurare i registri IVA e un'altra cosa molto importante un altro passaggio molto importante a dir poco fondamentale è quello di andare a indicare all'interno delle imposte quello che è il conto che deve essere considerato per quello che è il calcolo della liquidazione IVA attraverso quindi il modulo contabilità riusciamo a generare quello che è un movimento di liquidazione andiamo quindi a ottenere in base alla selezione del periodo di riferimento di interesse appunto selezionato andiamo a ottenere quello che è l'importo IVA erario quindi cosa vuol dire un importo che noi dovremmo eventualmente versare o che dovremmo ricevere indietro diciamola in questi termini riusciamo quindi ad avere quello che è un riepilogo di liquidazione con la nostra classica stampa di liquidazione IVA abbiamo visto come funziona quindi la liquidazione IVA-2 attualmente abbiamo visto che prendiamo in considerazione questa famosa data contabile ma adesso ci chiediamo la nostra famosa fattura del 6 aprile emessa il 6 aprile qualora fosse ricevuta dallo SDI il 6 di maggio in quale liquidazione IVA ce la inserisce questa fattura emessa il 6 di aprile ricevuta dallo SDI il 6 di maggio di che liquidazione IVA fa parte? in questa slide ho voluto raccogliere il classico should be ease vediamo quello che è in Odu è quello che dovrebbe essere in Odu cosa accade? accade che se abbiamo emesso questa fattura il 6 di aprile ma lo SDI la ricevuta il 6 di maggio quindi entro i 15 giorni del mese successivo Odu ce la mette nella liquidazione del mese di maggio in realtà però abbiamo visto che per l'articolo 12 del 2018 e bla 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 questa fattura dovrebbe rientrare all'interno di quella che è la liquidazione IVA del mese di aprile perché? perché se io la ricevo il 6 di maggio l'ho ricevuta entro il quindicesimo giorno successivo rispetto al mese di effettuazione delle operazioni quindi l'articolo 12 ci dice che questa fattura deve rientrare nella liquidazione IVA del mese di aprile ma Odu questo non lo fa al momento perché? perché Odu non lo fa? perché al momento purtroppo Odu non lavora per competenza Odu al momento non è in grado di andare a gestire e di andare a riconoscere quello che è il corretto periodo di competenza per competenza IVA cosa intendiamo? intendiamo quel range temporale all'interno del quale la nostra fattura viene ricevuta dallo SDI quindi è quel periodo che ci permette di andare a definire la nostra fattura di che liquidazione IVA fa parte se di un mese piuttosto che del mese precedente o successivo quindi è un valore per noi fondamentale affinché noi riusciamo ad avere la piena contezza e il rispetto di quella che è la normativa abbiamo detto che il 2018 è stato un po' l'anno di separazione è stato un po' l'anno di separazione perché? perché prima del 2018 riuscivamo a definire la data di competenza IVA coincidente con quella che era la data di emissione della fattura perché? semplicemente perché prima del 2018 si usava effettuare quella che era una consegna manuale della nostra fattura piuttosto che una consegna via mail noi emettevamo la fattura in data X e la inviavamo via mail o la facevamo recapitare insomma fisicamente diciamo nello stesso giorno quindi riuscivamo ad avere e riuscivamo a definire la data di competenza proprio come coincidente con la data di emissione della fattura dopo il 2018 quindi dopo l'introduzione della fatturazione elettronica che cosa è successo? è successo che non è stato più possibile poter definire la data di competenza IVA coincidente con la data di emissione perché? perché da quando noi andiamo ad emettere una fattura rispetto a quando questa fattura viene recapitata allo SDI quindi viene ricevuta dallo SDI passano alcuni giorni quindi capiamo bene che non possiamo più andare a dire ok la data di emissione della nostra fattura possiamo considerarla effettivamente coincidente con quella che è la data di registrazione in Apulia abbiamo trovato una soluzione mi viene da dire a dir poco rivoluzionaria rivoluzionaria perché? perché siamo stati in grado di permettere ad Odù di riconoscere il corretto periodo IVA all'interno delle fatture partendo da quella che è la data di registrazione una piccola definizione di data di registrazione l'abbiamo già detto ma è sostanzialmente la data in cui la fattura viene ricevuta dallo SDI quindi che cosa abbiamo fatto? abbiamo permesso, ripeto, ad Odù di andare a riconoscere questa data di registrazione quindi la data in cui la fattura è arrivata allo SDI per andare a generare il corretto periodo IVA della fattura stessa molto semplicemente ho raccolto in questa slide dei piccoli passaggi che bisogna effettuare all'interno delle impostazioni generali della nostra azienda abbiamo la possibilità di andare a decidere o meglio di andare a selezionare il tipo di liquidazione IVA della nostra azienda per cui stiamo lavorando, quindi il tipo di pagamento andando ad effettuare la selezione tra le due scelte, se mensile o trimestrale si vanno a generare in automatico i periodi IVA i periodi IVA non sono nient'altro che i periodi di competenza cosa cambia quindi all'interno delle nostre fatture in Odù? abbiamo visto precedentemente una classica fattura fornitore avevamo visto quelle che erano la data fattura che troviamo anche qui la data contabile la troviamo anche qui ripetiamo anche in questo caso la data contabile potrebbe coincidere con quella che è la data di fattura idem per la data di scadenza cosa cambia? abbiamo due campi in più abbiamo il campo data registrazione quindi la data in cui la nostra fattura è stata ricevuta dallo SD e il campo periodo IVA che abbiamo appena detto essere un campo importantissimo e che tra l'altro viene generato in maniera automatica in base a quella che è la data di fattura meglio la data contabile in sinergia con la data di registrazione quindi per esempio per questa fattura emessa il 26 di aprile è ricevuta dallo SD il 3 di maggio Odù è in grado adesso di fare cosa? di andare a calcolare il periodo IVA 04 2024 quindi ci troviamo anche con quello che è il rispetto del famoso articolo 12 ma se questa stessa fattura fosse stata sempre emessa il 26 di aprile ma fosse stata ricevuta anche solo il 16 di maggio adesso Odù è in grado di fare cosa? di andare a generare nuovamente un periodo IVA ma che con una fattura con queste caratteristiche sarebbe non più 04 2024 ma sarebbe 05 2024 quindi siamo stati in grado di andare a insegnare lasciatemi lasciatemi dire così a Odù di andare a riconoscere quello che è il periodo IVA corretto e quindi riuscendo appunto a considerare il giusto periodo di competenza siamo riusciti a ottenere quella che è una liquidazione IVA esattamente corrispondente a quello che è il rispetto della normativa nel senso che abbiamo una data di inizio competenza una data di fine competenza la data di liquidazione IVA quindi possiamo dire che all'interno di Odù adesso è possibile generare una liquidazione IVA corretta e nel pieno rispetto della normativa italiana concludo dicendo che possiamo possiamo con un sorriso sulle labbra dire che a questo mondo è tutta una questione di competenza anche nella gestione smart della contabilità in Odù io ho concluso e vi ringrazio per l'attenzione bene grazie Claudia allora c'è qualche domanda stesi mi sa che c'è una domanda eccoli là eccolo io lo sapevo tu sei venuto proprio per fare le domande oggi arriva arriva il microfono volevo sapere dove era già disponibile per poter usufruire di questa nuova funzionalità allora quello che posso dire è che sicuramente no non è una domanda difficile è una domanda pertinente anzi ti ringrazio per questa domanda è un a Puglia sta mettendo in campo insomma delle delle soluzioni per poter ha già messo in campo delle soluzioni per poter presentare a voi qualora aveste bisogno insomma di informazioni relativamente a questo a questo punto quindi sì assolutamente potete contattare chiaramente il nostro ufficio sales inquadrare il QR code che vi porta direttamente la maggior parte delle informazioni grazie altra domanda ottima ottima esposizione sei partita però da una considerazione iniziale che insomma è un po' tirata per i capelli secondo me nel senso che hai assunto che quello che sia una possibilità da parte dell'azienda di andare a inserire una fattura ricevuta a cavallo in qualche modo del mese nella liquidazione del mese precedente questa è una possibilità da parte dell'azienda diciamo è stata esposta come se fosse un obbligo di legge in realtà non è così nel senso che è un vantaggio fiscale da parte dell'azienda poter anticipare l'esposizione dell'IVA fornitori acquisti per poter avere un vantaggio in termini di minore liquidazione IVA da pagare ma dato che queste fatture in realtà che sono diciamo che hanno queste caratteristiche percentualmente sono molto basse e comunque la possibilità dell'azienda di andarla a inserire nella stante all'esempio che avevi fatto andarla a inserire nella liquidazione di maggio perché la nostra l'agenzia dell'entrata è contentissima se paghi un po' più di IVA in liquidazione in realtà la stragrande maggioranza delle aziende italiane risolvono il problema elegantemente utilizzando come data di liquidazione la data di ricezione della fattura tra l'altro ecco anche qui c'è una piccola cosa che può essere precisata che non è la data in cui la fattura è arrivata allo SDI ma è la data in cui la fattura lo SDI l'ha inviata al ricevente perché anche tra la data in cui lo SDI l'ha ricevuta e la data in cui l'ha ricevuta effettivamente il cliente del fornitore ci possono passare due o tre giorni perché in alcuni casi lo SDI si blocca e non consegna la fattura quindi in realtà dobbiamo parlare di data in cui la fattura è arrivata fisicamente cioè tramite il processo canale elettronico alla ditta che la deve contabilizzare quindi sì è tutto corretto quello che hai detto ma diciamo che si parla secondo me più di una possibilità che di un obbligo grazie c'è qualche altra domanda ok perfetto mi sa che di là sì ci abbiamo ancora qualche altro minuto per cui approfittiamone salve volevo chiederti se avete fatto anche qualcosa o state pensando di fare qualcosa rispetto diciamo alle aziende che hanno la gestione di va per cassa quindi rispetto agli incassi quindi le invitazioni dovrebbero andare per competenza rispetto all'incasso IVA per cassa IVA per cassa al momento non non è non state pensando di farlo al momento potrebbe rientrare in uno dei prossimi rilasci ecco sicuramente non escludiamo nulla adesso siamo partiti con con questo con questo primo rilascio che include determinate funzionalità ma ripeto insomma penso di poterlo dire a nome di Apulia che non escludiamo di poter man mano ampliare anche quelle che sono le varie funzionalità piuttosto che necessità anche sulla base di quelle che sono e saranno potrebbero essere le vostre richieste assolutamente sì grazie qualche altra domanda ho visto qua che hanno alzato la mano va bene credo che erano eccolo lì no ci abbiamo qualche minuto grazie Claudia per la precisione una delle ultime slide che hai fatto passare c'era data fattura che poteva essere 30 aprile data contabile era indicata lo stesso 30 aprile e la data in fondo di quella legata alla consegna dello SDI 6 maggio ipotesi quella data contabile in alto a cosa fa riferimento cioè sui registri IVA io quella fattura la troverò registrata su maggio e la liquidazione sarà aprile allora la data contabile è quella data che ci va a definire quando la fattura è stata contabilizzata all'interno di Odu quindi in quel caso poteva come ho già detto poteva coincidere con la data di emissione della fattura ai fini della liquidazione viene a il nostro prodotto va a considerare quello che è la combinazione tra la data contabile quindi la data proprio appunto di contabilizzazione e la data di registrazione quindi se abbiamo la data del 26 se non ricordo male era l'esempio di aprile ma se la registrazione fosse stata il 16 di maggio sarebbe rientrata nella competenza di maggio poiché nell'esempio avevo riportato che la data di registrazione era antecedente al giorno 15 del mese successivo rispetto a quando la fattura era stata emessa e quello era il motivo per cui rientrava nel mese di aprile come liquidazione non so se sono riuscita a rispondere quindi praticamente io ho una fattura di fine aprile ipotesi che mi arriva il 5 maggio come liquidazione IVA io ce l'avrò in aprile sui registri IVA dove andrà a finire su aprile o su maggio su maggio dovrebbe andare a fammi un attimo pensare sì va a finire su maggio dovrebbe andare su maggio sì assolutamente per quanto riguarda i registri IVA questo dipende dalla data contabile o dalla data registrazione è in sostanza una come dire una sinergia una sinergia tra quello che è la data contabile e la data di registrazione però va a leggere la data di registrazione perché altrimenti non riusciremmo a ottenere il risultato atteso per il pieno rispetto della normativa grazie infinite grazie a te grazie allora siamo due uno zero via grazie a tutti grazie Claudia grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti